5 minuti di pazienza 5 minuti di pazienza C'è il collegamento con la vicina La verità è che non ci siamo mai fermati Proprio quando il tempo sembrava immobile Il pensiero è un'altra Un tempo nuovo Buonasera a tutti La fondazione Trame e l'associazione antirachidi vi danno il benvenuto a Trame Il festival dei libri sulle mafie Il festival è realizzato con il sostegno del Comune di Lamezziterme Di Commercio, Imprese per l'Italia, Ferrovie dello Stato e Poste Italiane Il mio amico Giovanni Falcone, il titolo del prossimo incontro Pietro Grasso ne parlerà con Enrico Bellavilla Sarà presentato il libro di Pietro Grasso dal titolo del mio amico Giovanni Edito da Feltrinelli In vendita presso il bookshop, il sito accanto all'edicola Potete partecipare al racconto collettivo del festival sui nostri canali social Utilizzando l'hashtag Trame11 Ricordiamo inoltre che è possibile al banchetto situato di fronte al palco in piazza di San Dometico Firmare la petizione promossa dalla Trame Per l'apertura delle indagini sulle morti di Francesco Cristiano e Pasquale Tramonte Nel Turbini uccise nel 91 Per cui chiediamo ancora giustizia Grazie e buon proseguimento Grazie e buonasera Benvenuti e grazie a Trame che ci ospita Grazie a Pietro Grasso per questa opportunità Grazie anche per questo libro Che è un libro agile, veloce, leggero ma densissimo Un libro che si legge facilmente perché obbedisce ad una necessità Nel libro viene detto Molti di noi, la nostra generazione, quella che ci ha preceduta E quella immediatamente successiva Ricordano esattamente cosa accadde nel 1992 Il problema vero nel trentennale delle stragi E raccontarlo a chi non c'era E trovare le parole perché questo pezzo di storia E questo pezzo di memoria abbia un futuro Ed era questo il tentativo, secondo me Potete apprezzarlo anche voi Riuscito nel libro Il mio amico Giovanni Che è la storia di un'amicizia ma anche un quarantennio E forse più di storia di lotta alla mafia Facciamola breve Merito di Pietro Grasso che ha messo i ricordi Che ha messo la memoria Che ha messo la passione civile Il racconto in prima persona della sua esperienza Merito di Alessio Pasquini Che è un collega che ha scritto queste cose Isolando nella massa dei ricordi Una narrazione che con una lettura attenta di questo libro Che è scorrevolissimo, veloce, rapido Serve allo scopo e lo scopo ve lo dirò tra un attimo Ha isolato alcuni elementi chiave Per fissare dei punti Stabilire delle certezze E anche delle domande chiave Per capire il futuro E quello che stiamo vivendo Lo scopo del libro è arrivare a chi non c'era E raccontarlo alle giovani generazioni Che è un po' parte dell'impegno civile Che contraddistingue l'azione di Pietro Grasso Nelle sue molte vite Da magistrato Ma anche da parlamentare E da presidente del Senato Quale è stato È un libro su un'amicizia Un libro sulla mafia Sull'antimafia Sull'impegno Sulla determinazione Con la quale funzionari e uomini dello Stato A tutti i livelli E ci arriveremo Compiono il loro dovere E per questo In alcuni momenti storici Rischiano più degli altri E il chiedersi In che cosa sia consistito Il loro dovere Apre uno scenario importante Perché ci fa chiedere Chi In quello stesso momento Il proprio dovere Non l'ha compiuto E in qualche modo Si è reso complice Di quello che è accaduto Nel 1992 Pietro Grasso Il La difficoltà È proprio questa Parlare Ai giovani Parlare alle nuove generazioni E questo libro Proprio questo Si propone Lo dicevamo prima Perché io ho letto il libro Senza sapere Il retroscena E lui a un certo punto Mi ha detto Ma questo libro Non è fatto per te È fatto per quelli Che non sanno assolutamente nulla Ora io posso iscrivermi Tranquillamente A questa categoria Di quelli che non sanno nulla Però Però Ha ragione E questo L'obiettivo Raccontarla Questa storia Ma non farne soltanto Un ricordo mesto Un esercizio quasi storico E quasi rituale Ma dargli vita Che vita ha questa storia Ma intanto Io ringrazio Per le belle parole Di Enrico Bellavia Ma io Riflettendo che Sono passati Trent'anni Dalle stragi Del 92 Ho pensato Che avevo Il preciso dovere E sentivo anche L'urgenza Di lasciare Una traccia Una traccia Documentale Di quello che è stato Il mio rapporto Con Giovanni Falcone Approfittando Per raccontarlo In maniera diversa Perché Avevo il sospetto Ce l'ho sempre Il sospetto Che il passaggio Del tempo Possa far Scolorire Certe Immagini Non so Per esempio Quel modo Particolare Di Paolo Borsellino Di arricciare il naso Quando sorrideva E poi lanciava Le sue battute Oppure Quella luce Che aveva Giovanni Falcone Quando parlava Dei suoi progetti Quell'entusiasmo Che coinvolgeva Beh Queste sono Delle cose Che io ho provato E che quindi Ho voglia Di far sentire Anche Ai ragazzi Perché La memoria È importante È importante Soprattutto Perché Per me Il mito Dell'eroe Di Giovanni Falcone Io Vedete Ho Da sempre Sono andato Nelle scuole Ho incontrato I ragazzi Giovani Da quando ero Magistrato Anche poi Nella mia esperienza Politica E Però Ho visto Che c'è stato Una trasformazione Nei miei interlocutori Allora I giovani Che incontravo A ridosso Delle stragi Dopo Gli anni Delle stragi Avevano Vissuto Quei momenti E quindi Io potevo Tranquillamente Parlarne Perché loro Già sapevano Quello che avevano Vissuto Avevano vissuto Le loro emozioni Sapevano Dove erano Cosa facevano Quel giorno Perché questo Dà l'importanza Di un evento Così Mondiale Nella vita Delle persone Perché tu sai Hai registrato Quel giorno E sai Perfettamente Cosa facevi Quando ti è arrivata Quella notizia Ebbene E questa è la prima fase La seconda fase Incominciavo a incontrare Giovani Che invece Avevano sentito Da genitori Da nonni Di queste cose E già Incominciavano a scolorire Alla fine Dopo 30 anni Nemmeno i genitori Dei nostri giovani Spesso Se sono Appunto Giovani ragazzi Hanno Vissuto Quel periodo Per cui Devi raccontarlo Ex novo E devi Inserire Una storia Raccontando Tutto il contesto In cui si sono svolti Tanti avverimenti E la difficoltà E la difficoltà Appunto Era quella Di poterlo fare In maniera Agile Semplice Con un linguaggio Molto Agevole Da percepire E raccontando storie Io soprattutto Ho voluto Far vivere Giovanni Falcone Come l'ho conosciuto io Che è una visione Diversa da come È apparso Da quelli che sono I suoi interventi pubblici O le sue Diciamo Anche Scritti per esempio Ce n'è pochi Ma c'è una raccolta Di scritti A parte il suo libro Cose di Cosa Nostra Nell'ultimo anno Prima Prima della strage Ma Ci sono soprattutto Interventi nei convegni Interventi E quindi ho voluto Far conoscere Giovanni Nella sua quotidianità Nella sua umanità Nel suo Modo Di essere Una persona Come noi Perché quando Io chiedo a un ragazzo Ma Il nome Falcone Cosa ti dice Un eroe E basta E non sa altro Ma Che significa In realtà Io voglio Eliminare questo mito Perché l'eroe Per i ragazzi E quel supereroe Che ha poteri Sovrannaturali Che sconfigge Il male Risolvendo i problemi Di una comunità Con perché Vola Perché Ha appunto Questi poteri Sovrannaturali E riesce E la comunità Delega a lui La risoluzione Dei problemi E quindi È una persona Assolutamente Al di fuori Della realtà Invece no Falcone Borsellino Erano persone Assolutamente Normali Come noi Erano eccezionali Per cosa? Ma per la loro Professionalità Per il loro impegno Per il senso Del dovere Queste qualità Che dovremmo avere Tutti noi Principalmente Quei ragazzi Che si affacciano A diventare La nuova dirigenza Le nuove generazioni Ecco perché È importante Che dal mito E dall'eroe Si conosca Invece La persona Che amava La buona tavola Il buon vino Che fumava Come Paolo Borsellino Che per esempio Non usava i fiammiferi Perché con una sigaretta Che stava per finire Accendeva quell'altra Che stava per iniziare Con i loro difetti Con Giovanni Falcone Che amava Un whisky particolare Che Eppure Che amava Quel cocktail Che aveva imparato Quando stava negli Stati Uniti Di whisky e Coca Cola Che era una cosa Che per me Era orribile Ma Oppure Quel Giovanni Falcone Che Telefonava A mia moglie E dice Preparami quel piatto Che mi hai fatto L'altra volta Che mi piace tanto Stasera vengo a cena Da voi Così Con una spontaneità E un modo Veramente diverso Ecco da come E poi aveva Questo humor Particolare Un modo Così Di Giocare Sul doppi sensi Delle parole Un po' Cambiandole Tanto per fare un esempio Se gli telefonavi Gli dicevi Come stai Giovanni È seduto No tanto per dire Oppure Aveva un collaboratore Che si chiamava Che si chiama Ancora vivo Paparcuri E che era L'autista Di Chignici Che è sopravvissuto La strage All'autobomba Con cui è stato Ucciso Rocco Chignici Il capo Dell'ufficio istruzione Quando Falcone Arrivo là Ebbene Papa Arcuri Ogni tanto Io vedevo Nella stanza Lo chiamava Senti Arcuri Prendemi quel fascicolo Ho detto Ma perché lo chiama Arcuri Perché ancora Non l'hanno fatto Papa E così Battute di questo genere Oppure Era il ministero Della giustizia E quando Sono stato lì Con lui Che mi ha chiamato Perché io Non avevo nessuna intenzione Di abbandonare Il mio ruolo La mia funzione Di magistrato Per andare a fare L'impiegato amministrativo Sostanzialmente Come magistrato Al ministero della giustizia Ma lui mi chiamò E mi disse Piero Vieni Vieni a darmi una mano Ho bisogno di persone Di cui fidarmi E mi raccontava Appunto I suoi progetti Le sue visioni Su come combattere La mafia Ebbene Io Quando entrava La mattina Nella sua stanza C'era Una Stanza Dove c'era la segretaria Entrando Al secondo piano Del Del palazzo Appunto Dove sta il ministero Di via regola E gli faceva La segretaria Allora Chi mi ha cercato Stamattina Kim Basinger Alda Parietti Perché se non sono loro Io non ci sono per nessuno Naturalmente poi Si faceva passare Le chiamate Ma era un modo Per Così Un modo scherzoso Di iniziare la giornata Lavorativa E si metteva lì Poi a fare Ecco Questo Giovanni Falcone Che Era invece Visto come una persona Che Quasi Teneva a distanza I suoi interlocutori Soprattutto i giornalisti Quando capiva Che non sapevano nulla Di mafia Gli facevano delle domande Talmente ingenue E talmente cose Che lui si scocciava E dava risposte Anche Veramente Così Disarmanti Invece Quando aveva Degli interlocutori Con cui Per esempio I suoi Colloqui Con chi? Con la torre Con Sciascia Con tutte queste persone Che Erano entrate Nel mondo Della mafia Attraverso anche La letteratura Attraverso L'esperienza Beh Questo era Un modo assolutamente Diverso Però lui diceva Una cosa Io glielo contestavo Dico Ma tu Puoi essere un po' più Empatico Un po' più E dice Guarda Io A Palermo Dopo le indagini Che ho fatto Capisco una cosa Che non sai mai Chi sta dietro O chi ti sta davanti Cioè Tu hai davanti Una persona Ma non sai se E' portatrice Di interessi mafiosi E quindi Io Ci parlo Per carità Però Con distacco E non sapendo Chi rappresenta E quindi Ecco Mi spiegava Il perché Poi Naturalmente Quando Eravamo Insieme Con Paolo Borsellino Con lui Alle volte C'erano Delle Delle schermaglie Veramente Gustosissime In cui si scherzava Si scherzava Soprattutto Sull'idea Della morte Perché Perché era un modo Per quasi esorcizzare Questo pericolo Che sentivamo Sentivamo presente Costante Ma Che Così Scherzandoci su E' un po' Una cosa Di noi siciliani Che abbiamo Questa idea Di scherzare Con la morte E sulla morte Ebbene Ricordo Una Una battuta Un giorno Io Avevo bisogno Di alcuni documenti Particolari Che erano riservati E che Nel pool Antimafia Tenevano Dentro la cassaforte Le chiavi Della cassaforte La persona Più ordinata E più puntuale Era Paolo Borsellino Perché Lui Era uno che Aveva Tutti i suoi appunti Poi magari Ne parliamo E allora Gli chiesi Quei documenti Lui andò Apri la cassaforte Le chiavi Richiuse Stavano passando Insieme Davanti alla stanza Di Giovanni Falcone E Giovanni fa Eh Paolo Ma Se ti ammazzano Come facciamo noi Ad aprire la cassaforte Se non si trovano più Le chiavi Che tieni tu Ma Paolo Subito Di risposta Immediata Giovanni Io sto tranquillo Tanto Il numero uno Sei tu Se devono ammazzare qualcuno Prima ammazzano te Quindi le chiavi Noi continuiamo a trovarle Poi si parla di me Purtroppo Sono stati Queste che erano battute Si riveleranno poi Delle profezie Perché così poi Avvenne il tutto Bene Quindi Io ho cercato Ripeto Di raccontare I miei momenti Culminanti I miei momenti Di vita Con il mio amico Giovanni E spero Che Questo mio Obiettivo Di renderlo Più Simpatico Fruibile Per i ragazzi Possa essere raggiunto Io credo che Io credo che lei e Pasquini ci siate riusciti perché Veramente nel libro Troverete decine di episodi Moltissimi inediti Proprio per le cose che diceva Grasso prima Cioè questa immagine Anche molto schiva Riservata Burbera Che Falcone Trasmetteva E che era anche una cautela Necessaria Vista la materia di cui si occupava Cozzava un po' invece con una dimensione più Più allegra Più spontanea Ma è un fatto anche di indole Che aveva Che aveva Paolo Borsellino Nel libro troverete tantissime persone Che non ci sono più Che hanno determinato Alcuni passaggi storici E importanti Mi piace ricordare E far ricordare a Grasso Come fu Accolto nel momento in cui Era stato designato Come giudice a latere Del maxiprocesso L'elemento Più forte Nella storia Recente Del nostro Paese Perché è un monumento Giudiziario Che sancisce la fine Dell'impunità di Cosa Nostra Cosa Nostra Fino alla seconda metà degli anni Ottanta Era sostanzialmente Impunita E ricercava spasmodicamente Questa impunità Facendo in modo che i processi Si celebrassero altrove Non a Palermo Perché si sosteneva Lì i giudici Possono essere Suggestionati Spostando i processi fuori Calava l'attenzione I giudici forse I giudici forse Diventavano più Sovraesposti E più facilmente Suggestionabili Davvero Ma in senso Negativo Falcone si batte Perché il processo Il maxiprocesso Rimanesse a Palermo E per la costruzione Dell'aula bunker Nel carcere Palermitano Dell'Ucciardone A un certo punto Pietro Grasso Giovane Magistrato Molto Considerato Nel suo ambiente Viene chiamato Dal presidente del tribunale Se non ricordo male Che Deve fargli un discorsetto Che discorsetto Le fece Allora In realtà Io mi trovavo Quel giorno Mi trovavo in ferie E pur essendo in ferie Stavo scrivendo La motivazione Di una sentenza Perché Era una sentenza Che Era piuttosto complessa E quindi Non c'era Il tempo di scriverla Durante il periodo Di lavoro E mentre Ero Nella mia Casa di Velleggiatura A Mondegno Vicino Palermo Mi telefona Il presidente Del tribunale E mi dice Grasso Vieni Vieni Che ti devo parlare E allora Io Dico Ma io veramente Sono in ferie Cioè Ero naturalmente In pantaloncini Ci abbatte Così Lavoravo Però In una situazione Al mare Diciamo Lestirmi Andare E dicevo Guarda Io sono in ferie Tra l'altro Per cercare Di Ovviare Alla situazione Gli dico Ho la macchina In riparazione Dal meccanico Non mi posso muovere Non ti preoccupare Ti mando io Il mio autista Con la mia macchina A questo punto Non potei dire di no E quindi Metto Giacca Gravatta E arriva St'autista Arrivo davanti Al presidente Del tribunale Il quale Appena mi vede Mi fa un discorso Tu sei un giovane Magistrato Molto valido Uno diligente Molto stimato Dagli avvocati Io ho detto Alt Dov'è la fregatura Perché uno Che ti vende a chiamare Con l'autista Ti porta Incominci a fare Le tue rodi Qualcosa c'è Ma io già sospettavo Quale poteva essere Diciamo Il motivo Della mia chiamata E difatti Il presidente Mi fa Abbiamo pensato A te Come giudice Alater Nel maxiprocesso Contro la mafia Quello che stanno finendo Di completare Il pull antimafia Di Falcone Di Borsellino E quindi Tu dovresti Darmi Il tuo assenso Io ho detto Un attimo Che Ho bisogno Di 24 ore Di tempo Perché devo parlare Con mia moglie Perché Non lo Non accetto Se non siamo Tutti d'accordo E Arrivo a casa E dico a mia moglie Guarda che Mi hanno offerto Quest'occasione Mia moglie Sapeva come La magistratura Per me Era una missione Ho sempre Fin da ragazzo Avevo questo obiettivo Di fare il magistrato E Lo scrivevo pure Nei temi Cosa farai da grande Quindi Mia moglie A cui dicevo Bada che la nostra vita Dall'oggi al domani Cambierà Perché saremo Attorniati Da Ragazzi della scorta Con giubbotte Antiproiettile Macchine blindate Perderemo La nostra libertà Da un giorno all'altro Saremo Saremo oggetto Di calunnie Di delegittimazioni Di pressioni Però Sappi che Io Ci tengo E mia moglie Che fra l'altro Pensava Come me Che era Una grande Occasione Una grande opportunità Questa Mi dice Vai avanti Accetta E quello che avviene Ce lo prenderemo tutto Difatti poi ce lo siamo presi Quindi io torno dal presidente Del tribunale E dico Va bene Accetto E mi recco Da Giovanni Falcone Che era All'ammezzato Nel suo ufficio Del palazzo di giustizia E vado da lui E mi presento Nel senso Sono Stato Designato Come giudice Alate Del maxiprocesso Contro la mafia Giovanni mi guarda Quasi squadrandomi Allora Io sono sicuro Adesso Dico che lui Aveva partecipato Certamente Alla scelta Nel senso Che il presidente Del tribunale Senza Una persona fidata Non avrebbe Forse Designato Questo Non me l'ha mai detto Però Comunque Mi dice Vieni con me Si alza Dalla sua Dalla sua stanza Esce dalla stanza Attraverso un corridoio Apri una porta E mi fa Con aria plateale Ecco Ti presento Il maxiprocesso Io entro In quella stanza E c'era Una stanza Con quattro pareti Con gli scaffali Fino al tetto Con tanti faldoni Pieni di carte C'erano 400.000 fogli Da studiare Perché allora Il processo Era diverso Da come Si fa ora C'era il giudice Istruttore Che raccoglieva Tutti gli atti Anche i documenti Cartacei Che potevano essere Utilizzati Dalla corte D'assise Che andava a giudicare Già come elementi Su cui si poteva Fondare la decisione Quindi andavano studiati Tutti Ricordiamo che L'informatizzazione Di questi arti Ancora non c'era Non c'era ancora Quindi Capite che a me Si gelò il sangue Di fronte a quella mole Di carte da studiare Io quando la racconto Ai ragazzi Dico pensate a un libro Pensate a 400.000 libri Qualcosa Dico E però Guardavo Giovanni Che mi stavo osservando E Alla che Gli dico Ma dov'è il primo volume? Alla che lui si rassererò Perché capì Che avevo voglia Di iniziare Subito a lavorare E si Si allargò In un grande sorriso E mi indicò Una stanzetta Accanto Dove Io potevo Prendere Quei Fascicoli Che ancora Non erano Ufficialmente Depositati Per gli avvocati Ma Siccome c'era Molto lavoro Da fare Avevo iniziato A farmi Ristudiare E allora Mentre mi trovavo In quella stanzetta In piena confusione Con tutte queste carte Passa Paolo Borsellino Mi batte una mano Sulla spalla Dice Lo capisco Che confusione sei Perché Le carte In un processo Vengono messe Cronologicamente Ma i fatti A cui si riferiscono Li trovi In faltoni Disparati Cioè Da uno A cento Eccetera Quindi Era impossibile Cogliere il filo Delle indagini Svolte Ma Paolo Mi ditte Ti do copia Dei miei appunti Fatti In certi quadernetti Dove c'era tutto Lui era un Meticoloso Il database Praticamente Aveva fatto Quello che si fa In un database Cioè Mettere nella memoria Tutte le cose Perché c'erano I collegamenti Tra I reati Che erano Pensate 438 Reati Tra cui 120 omicidi Su cui dovevamo Decidere Quindi non ero Solo un processo Alla mafia All'associazione Mafiosa Ma tutti i reati Che aveva commesso In dieci anni La mafia Perché l'idea Di Falcone Era che Dimostrando La responsabilità Per quei reati Si arrivava Attraverso L'attività Alla mafia L'attività Della mafia Si arrivava A provare L'esistenza Dell'organizzazione Perché quello Era il problema Di allora Perché tutti Dicevano Che la mafia Non esisteva Che era un fenomeno Letterario Che era prodotto Dal libro Del padrino Il padrino Di Puzzo Che quindi Che cosa Andavamo cercando Non si capiva Ecco Questo era lo scopo Di quel processo E quindi Io Con quegli appunti Di Paolo Naturalmente Fui molto Agevolato E mi sentii Quasi Coccolato Sorretto Da Amici Che ti volevano aiutare Nel tuo lavoro Che si prefigurava Assai difficoltoso Come impegno E L'ultimo Ricordo Di quel momento E l'incontro Con Antonino Caponnetto Che incontro In un corridoio Davanti alla sua porta Lui era Il capo Del pool Antimafia Che aveva sostituito Chignici Dopo la stagge Di Chignici Nell'83 E quindi Aveva continuato L'opera Di Appunto Di Chignici E Antonino Caponnetto Mi incontra Mi dà un buffetto Su una guancia E mi dice Vai avanti Ragazzo A testa alta E schiena dritta E segui sempre La voce Della tua coscienza Non dimenticherò Mai quelle parole E quelli furono Furono I mesi Di studio Matto E disperato Poi Arrivarono anche I mesi Della scrittura Dopo la La sentenza Un Pietro Grasso Che in quei 35 giorni Di Camera di Consiglio Si era fatto crescere Il barbone Ebbe il tempo Di tornare a casa Salutare moglie e figlio E poi Attendere a un compito Che l'avebbe portato via Nove mesi Se non ricordo male Circa Nove mesi Per la stesura Di quel Monumento giudiziario Ora Si è vero Chiedi ai ragazzi E ti dicono Sono degli eroi Ma quando Questi uomini Operavano Erano circondati Da un clima Di ostilità Che riguardava Qualsiasi cosa La costruzione Dell'aula bunker Fu osteggiata Fu osteggiato Naturalmente Il metodo Falcone Adesso Ci arriviamo Partendo da Un episodio Illuminante Che è forse L'incontro giudiziario Tra lei e Falcone Cioè il furto Di un motorino E lì E lì c'è spiegato Tutto il metodo Falcone Che Del quale Ovviamente A sproposito Molti si appropriano Nell'imminenza Delle ricorrenze Dicevo Furono osteggiati A partire Dalle Vite Che avevano messo Al servizio Dello Stato E che perciò Erano costrette Ad un ridimensionamento Di tempi Di modi Vite riviste Per via Delle scorte E Palermo In particolare La Sicilia Ma direi anche Buona parte Della stampa nazionale Viveva Viveva il modo Di Osteggiarli Anche su questo Non riconoscendo Per nulla Che si trattava Di un sacrificio Le scorte In quel momento Vennero raccontate Come uno status symbol E anche un fastidio E c'è chi arrivò A scrivere Lo ricordate Nel libro Arrivò a scrivere Al giornale di Sicilia Il primo quotidiano Della città di Palermo Ma perché non li mettete Tutti insieme Sti magistrati In un bel edificio Si stiano lì E non rompano Le scatole Sostanzialmente E a Palermo C'era stata La strage Con l'autobomba Di via Pipitone Federico In cui era morto Rocco Chinnici Cioè Pensate che Le persone Non si preoccupavano Del rumore Delle autobombe Si preoccupavano Del rumore Delle sirene Di Giovanni Falcone Che tornava a casa Magari In un orario In cui riposavano E che quindi Disturbavano Il riposo Delle persone Cioè Questa era Diciamo La considerazione Ma la cosa drammatica E questa signora Che scrisse Questa lettera Così Così Delegittimante Di tutta una situazione Fu pubblicata Con enfasi Dal giornale Di Sicilia Di Palermo Per cui Perché Il giornale Può anche scegliere Quali lettere pubblicare Oppure no È giusto E quindi Ma fu enfatizzata Per il fastidio Che davano Queste persone Ma un fastidio Guardate Che ho sentito Anch'io Questo fastidio Una volta Che dovevo Andare In un Cioè A vedere Un film In un cinema Rionale Vicino a casa mia Naturalmente Attorniato Dalla scorta Stavo per entrare Dopo aver fatto Il biglietto E vedo Una signora Piuttosto anziana Che Al marito Da una Gomitata E fa Gioacchino Gioacchino Tale cucce Cioè Guarda chi c'è C'è un giudice Grasso Pessi e per no Assettamone lontano Non si sa mai Cioè Qua lo posso dire In dialetto Perché altrove Faccio subito La traduzione Simultanea Ma qua si capisce E beh Capite che Sembrare Una mina Vagante Che metteva In pericolo Le persone Non è un fatto Piacevole Da quel giorno Io non andai più Al cinema E mi vedevo Già c'erano le cassette Che giravano Con i film E preferivo Vederle a casa Registrate Piuttosto che Appunto Creare Quest'ansia Nelle persone Questo è un episodio Che mi è venuto Così in mente Ritornando a Falcone Io ho conosciuto Falcone Quando Da un punto di vista Professionale Prima che Come collega Magistrato Perché io ero Sostituto procuratore A Palermo E Ancora più giovane Di quando Fui nominato Designato Al maxiprocesso E Il pubblico ministero Il procuratore Agiva in corrispondenza Col giudice istruttore Che era Falcone Mi trovai A trasmettere Un fascicolo Ma assolutamente Di quelli che Si archiviano immediatamente Sul ritrovamento Di un motorino Rubato Un rottame Trovato addirittura Incendiato Quindi Lo trasmisi Perché poi Veniva archiviato Contro i gnoti Cioè questa Era la normale Dopo un po' Mi ritorna Da parte di Falcone Perché voglia Esprimere le sue Richieste In relazione A una perizia Che possiamo fare Per rintracciare Il numero Del motorino Perché frattanto Il professore Giacone Anche lui Purtroppo Ucciso Dalla mafia Perché si era Rifiutato Di falsificare Una perizia Per un mafioso Questa parentesi Il professore Giacone Mi disse Ha trovato Un metodo Per far emergere Il numero Di matricola Delle armi alterate Sapete che Le armi rubate Vengono cancellate Con il numero Di matricola Questo professore Aveva trovato Nell'istituto Di medicina Legale Un modo Falcone Dice Perché non lo possiamo Utilizzare Anche per il motorino E quindi Dà questa perizia Al professore Giacone Viene fuori Il motorino Attraverso il motorino Non rintraccia il proprietario Un ragazzo Attraverso le dichiarazioni Del ragazzo Facendogli Spiegare Se aveva avuto Qualcuno Che non so Gli voleva male Lui spiega Che aveva avuto Uno scontro Con una banda Di ragazzi Del quartiere Lui riesce A rintracciare Quelli là Li fa Confessare Insomma Io rimango Meravigliato Dico Ma è una persona Veramente eccezionale Se da un rottame Di motorino Riesce A trovare i colpevoli Questo è Veramente In un palazzo Di giustizia Che era abituato A lasciare scivolare Le cose Senza intervenire Ben più gravi Di un motorino Ben più gravi Di un motorino Figuriamoci Chi era Questo giovane Quindi l'ho conosciuto Io per questa A questo punto La mia stima Da un punto di vista Professionale Chiaramente Incominciò E poi Ebbi Quell'incontro Per il maxiprocesso E da lì poi Nacque un rapporto Un'amicizia Che mi portò Appunto A vivere Tanti momenti Insieme Ebbene Quello Certamente Fu Il maxiprocesso Fu Una Diciamo Una svolta Perché Dovete comprendere Vedete Ai ragazzi Se non si racconta Quello che stava succedendo A Palermo Negli anni Settanta Ma è difficile Oggi pensare Che ci fossero Tanti omicidi Di persone Eccellenti Di istituzioni Rappresentanti Delle istituzioni E ancora si diceva Che la mafia Non esisteva E che Chissà Chi era Che lo uccideva Non so Io Pensate Il giornalista Mario Francese Agli inizi del settanta Il commissario Capo Della squadra Mobili Di Palermo Boris Giuliano Il giudice Cesare Terranova Il presidente Della regione siciliana Pier Santi Mattarella Fratello del nostro Attuale presidente Della Repubblica Sergio Caso di cui si occupò Direttamente Caso di cui mi occupai Io Come indagini Iniziali E poi Ma poi E tanti altri Pensate Il capitano Dei carabinieri Di Morriale Basile Che continuava Le indagini Di Giuliano E poi Il procuratore Della Repubblica Con cui lavoravo io Costa E poi Chinnice E poi La Torre E poi Dalla Chiesa Il capo La Torre Il capo Dell'opposizione Del maggior partito D'opposizione In Sicilia Il segretario regionale Che veniva ucciso E il prefetto Dalla Chiesa Che era venuto Per sconfiggere Per contrastare La mafia Che viene ucciso Allora Capite Che cosa Si era creato Si era creato Una cappa Di intimidazione Di un popolo Assoggettato Psicologicamente Perché Se uccidono Persone così Importanti E di potere Figuratevi Un poveraccio Che si rifiuta Di pagare il pizzo O un poveraccio A cui viene chiesto Di ospitare Un latitante Che si rifiuta Pensate Che il clima Di paura Ecco il metodo Della paura Di cui Parlava prima Rosario Itala Ecco Quello Il metodo Della paura Usato Attraverso Questa intimidazione Ambientale Così vasta Quindi Quel maxiprocesso Rappresentava La risposta Quasi La guerra Di resistenza Di liberazione Di un popolo Ma così La concepivamo Così L'abbiamo Trattata Col massimo Dell'impegno E quello L'impegno Fu appunto Quello di portare A compimento Pensate 20 mesi Ogni giorno In aula Il maxiprocesso 35 giorni Chiusi in camera Di consiglio Con i giudici Popolari Di cui magari Possiamo fare Un cenno Perché Io non mi stancherò Mai Di elogiare Quei cittadini Come voi Che hanno avuto Il coraggio Di accettare Di fare i giudici Popolari E di Subire Anche Le loro scorte Perché I pericoli Connessi Perché allora Si pensava Che per fermare Il processo Si potessero uccidere I giudici Tant'è che Io e il presidente Giordano Avevamo due giudici Che stavano in panchina Pronti a sostituirci Se ci uccidevano Ma capite Con quale idea Con quale psicologia Si affrontava Di fare il giudice Di un processo Codice Quello è pronto Se tutti ammazzano C'è un altro Che lo continua Perché il processo Innanzitutto E lo stesso I giudici popolari La corte d'assistenza Ne prevede sei Ne avevamo sedici Perché? Perché Si sa mai Uno sa male E di fatti Qualcuno Venne pure sostituito E comunque Quindi I giudici popolari Che in nome Del popolo italiano In nome vostro In nome nostro Hanno contribuito A fare Quella sentenza Che è stata Una rivoluzione Una svolta Epocale Finalmente Mafiosi Condannati All'ergastolo Usando il diritto Contro il delitto Usando il codice Non Altre Altre Modi Di risolvere I problemi Come in altri paesi Ma con la legge Con la forza Della legge Della giustizia Questo è il grande Successo Il grande Risultato Di quel processo Bene E però Io racconto Sempre Ai ragazzi Di quel periodo Il più Carico Di Di difficoltà Della mia vita Professionale C'è quello Della scrittura Della redazione Della motivazione Della sentenza Alla fine Saranno Settemila pagine Scritta in nove mesi Quindi Capite bene Come Perché dovevo Scrivere al più presto Possibile Finire quel lavoro Perché Più tempo mettevo Più c'era la possibilità Che i mafiosi Condannati Anche all'ergastolo Fossero scarcerati Per decorrenza Dei termini di carcerazione E avevo io Questa responsabilità Sulla mia testa Quindi Non avevo Tempo libero Non avevo Ma che cosa Non c'era domenica Non c'era televisione Non c'era niente 12 ore 13 ore Finché resistevo Al giorno Scrivere Usavo anche altri mezzi Registravo E facevo Trascrivere a qualcuno Pur di fare presto Bene Mentre Mi trovavo Mi trovavo in questa fase Una mattina Mio figlio Quattordicenne Viene E si presenta Nel mio studio Mi ero alzato La mattina presto Proprio per lavorare E mi fa Ma Sapete Con quell'aria arrogante Che hanno i figli Quando vogliono far sentire In colpa i genitori E mi fa Ma mi fate andare a scuola Con una tuta Tutta Drucita Tutta Dico Ma scusa Ma la mamma Mia moglie insegnava Era già entrata a prima ora Lui entrava a seconda ora E aveva educazione fisica Dice L'altra è a lavare Mi fate andare Io non posso andare a scuola così Insomma Mi voleva Allora io Sentendomi in colpa Abbandono il mio tavolo di lavoro E vado per un negozio vicino a casa Per comprargli una tuta Entro in questo negozio E mi incroce un ragazzo E mi fa Salve Ma non mi riconosce No veramente mi aiuti Perché io Non mi ricordo Ma come Siamo stati Due anni Uno di fronte all'altro Io dietro le gabbie Lei faceva il giudice E non mi riconosce Dico Ah bene E se io l'ho lasciata Dietro le gabbie Come mai Lei adesso è fuori Ah Ho trovato giudici buoni Non come lei Che mi ha rigettato 12 istanze di libertà provvisoria E mi ha tenuto sempre Io sono giovane Sono incensurato Lei mi doveva far uscire Allora finalmente Ho la mia libertà E ho ricordato Chi era quel ragazzo Era il figlio Di un boss mafioso Che nel processo Effettivamente Era imputato Per spaccio di stupefacenti E per associazione Di tipo mafioso Però Nei rapporti di polizia E carabinieri Era indicato Come un giovane Che faceva parte Di quelle squadre Della morte Che aveva rinsanguinato Le strade di Palermo Quindi era una persona Pericolosissima Che andava tenuto In carcere E già era fuori In libertà provvisoria E chissà quando Ammesso Che dopo la condanna Poi trovare i latitanti Non è facile Ebbene Compro la tuta Torno a casa Do la tuta A mio figlio Mi rimetto Al tavolo di lavoro E quella mattina Avevo davanti Da completare La scheda Di motivazione Di quel ragazzo Condannato A sei anni E otto mesi Di reclusione Che era già libero Allora Io racconto ai ragazzi Sempre questa storia Per fargli comprendere Che arrivano Dei momenti Di debolezza Di delusione In cui tu Traballi Bacilli E il Passato in mente Ma io sto sacrificando La mia vita Il rapporto Con mio figlio Con la mia famiglia Per fare qualcosa Che ritengo Sia utile Per la società E c'è qualcun altro Che rovina Tutto il mio lavoro E Bene Però Un attimo Dico ragazzi Un attimo Per un attimo Mi è passato Ma chi me lo fa fare Ma poi subito Il senso del dovere L'idea Di Falcone Di Borsellino Di Caponnetto Beh Mi sono rimesso Subito A scrivere E Entro i termini Ho depositato Quella sentenza E per responsabilità mia Non è uscito Nessuno di quei mafiosi Grazie Il libro Ha pochissimi virgolettati Intanto perché Ovviamente L'autore E il coautore Hanno a disposizione Il materiale Di prima mano Quindi non hanno nulla Da virgolettare Da riportare C'è qualche eccezione Una mi piace molto Perché In questo libro Oltre a ricordare Le grandi figure Che hanno Incrociato La storia personale E professionale Di Pietro Grasso Ci sono tantissimi Uomini E donne Che ai più Sono sconosciuti Sono gli uomini Delle scorte Della scorta Di Pietro Grasso A cui Lui tributa Un ringraziamento Insistito Durante Tutto il libro E sono gli uomini Che non ci sono più Gli otto uomini E donne Emanuele Aloi Che sono morti Con Falcone E Borsellino Si fanno i nomi E i cognomi Di tutti E le biografie E si fanno i nomi E i cognomi Dei giudici popolari Per rimarcare E il fatto Che il collegio Compì quella impresa Quel collegio lì Fatto di uomini Che poi tornarono Al loro lavoro Ed è riportata Tra virgolette La formula di giuramento Dei giudici popolari Che mi piacerebbe Tanto è breve La leggiamo È bellissimo Con la ferma volontà Di compiere Da persona D'onore Da persona D'onore Ha un senso Questo nello Stato Da persona D'onore Nello Stato Tutto il mio dovere Cosciente Della suprema importanza Morale E civile Dell'ufficio Che la legge Mi affida Giuro di ascoltare Con diligenza E di esaminare Con serenità Prove E ragioni Dell'accusa E della difesa Di formare Il mio intimo Convincimento Giudicando Con rettitudine E imparzialità E di tenere Lontano Dall'animo Mio Ogni sentimento Di avversione E di favore Affinché La sentenza Riesca Quale la società Deve attenderla Affermazione Di verità E di giustizia Giuro altresì Di conservare Il segreto Sei uomini E sei donne Sei uomini E donne Compirono Anche con Pietro Grasso E Alfonso Giordano Questa impresa E c'è un altro Passaggio Del libro Invece In cui vengono Ricordate Tre figure Delle quali Non si ha Molta memoria Sono tre donne Pietra Loverso Tre donne Pietra Loverso E non è casuale Che fossero tre donne Pietra Loverso Michela Buscemi E Vita Rugnetta Sorelle Madri E mogli Di uomini Uccisi Dalla mafia Provenienti Da famiglie Diciamo Coinvolte Nel Milie criminale Palermitano Queste persone Andarono in aula Mercerarissima A testimoniare Contro Gli assassini E scrivono Grasso E Pasquini E su questo Vorrei un'ulteriore Riflessione Senza di loro Sarebbe rimasta Soltanto Una guerra Tra Stato E mafia Combattuta Nell'indifferenza Della società Civile Con la loro Testimonianza Invece Diventò anche Una rivalsa Delle vittime Nei confronti Dei loro Carnefici E' quello A cui tendiamo Tutti Cioè che la lotta Alla mafia Sia un fatto Di popolo E non solo Di giudici Ci siamo riusciti Ma bisogna partire Da quello Che diceva Giovanni Falcone Cioè che se la mafia Fosse un fenomeno Soltanto criminale E Quando si parla di mafia Ormai Si intende anche Le altre realtà Di organizzazioni criminali Quindi anche L'andrangheta La camorra O la saga Corronunito Diceva Falcone Comunque Se fosse un fenomeno Soltanto criminale Sarebbe già stato distrutto Con le operazioni Di polizia Togliendo di mezzo I pericolosi Mafiosi In realtà Non è così Perché è un fenomeno Che Si avvale anche Del consenso Della gente E si avvale anche Della condizione Di bisogno Della gente Perché Spesso Ecco Questo non bisogna Dimenticarlo Che Il problema Delle organizzazioni Criminali Nei nostri Territori del sud È Favorito Purtroppo Da Una condizione Sociale Che Naturalmente Non è tale Da garantire A tutti La perfetta Sussistenza Propria E della propria Famiglia E quindi Il bisogno Alle volte Riesce A coinvolgere Anche Parti della società Allora Parlava Rosario Italia Dell'area grigia Detta anche Borghesia Mafiosa Cioè Quella Area Fatta appunto Di imprenditori Ma anche Di amministratori pubblici Ma anche Di amministratori locali Fatta da professionisti Fatta da persone Che Comunque Danno il loro consenso All'organizzazione E sono la forza La forza Che Fa Permanere Questa organizzazione Allora Facciamo Un esempio I mafiosi In Sicilia Fatti i conti Tra le varie famiglie Mafiose Cioè Parlando di quelli Che hanno Giurato Quelli che sono Punciuti Tutto quello Che vogliamo Che sono iniziati Possessero Possessero 5 mila I siciliani Sono 5 milioni Allora Se dovessimo Fare una battaglia Su un campo Uno contro gli altri 5 mila contro 5 milioni Non c'è storia Non è così Non è un fatto Ecco perché Tanti Di quei 5 milioni Purtroppo Hanno dato E penso Che ancora Il fenomeno Sussista Perché La mafia Cerca di sfruttare Il bisogno Le calamità Naturali I terremoti Pensate che Durante Il lockdown Della pandemia A Palermo Ricominciavano A passare Con i sacchetti Dei generi alimentari Porta a porta Per riconquistare Quel consenso Che noi Con tanti anni Eravamo riusciti A togliere Alla mafia E quindi Vedete come Cercavano Cercano Comunque Di approfittare Di qualsiasi momento Di debolezza Per poter Catturare Questo consenso E questo è il problema Vero Quindi Noi Alle volte Io mi Ecco Mi pongo un problema Ma Può essere che Questo stato di bisogno In cui Continua a permanere Una parte Della popolazione Sia una strategia Vero e propria Strategia Che può essere anche Mafiosa Ma può essere anche Politica Perché Mantenere il bisogno Significa che tu Devi chiedere qualcosa E quindi anziché ottenere Quello di cui hai diritto Chiedere un favore E dovere Avere questo scambio Tra favori E promesse Perché spesso Sono promesse Sono promesse Che sono scritte Sulla sabbia Perché basta un'onda Per cancellarle Spesso E quindi Questo scambio Questo clientelismo Che Badate È della mafia Ma purtroppo È anche Della cattiva Politica Quindi C'è una Una certa Un certo parallelismo Tra queste Condizioni sociali Economiche E comunque Anche poi Il problema Più generale Della finanza Perché oggi La mafia Non si fa più sentire I delitti Violenti In famiglia Sono Statisticamente Superiori Rispetto a quelle Di mafia Perché Ma perché Vogliono tranquillizzare È una Una strategia Che è nata Dopo la reazione Che c'è stata Alle stragi Del 92 E dopo Gli ergastoli I 19 ergastoli I 2665 Anni di carcere Del maxiprocesso Dopo I capi Di mafia Che sono Rimasti In carcere Il carcere A vita E alcuni Sono già morti Come Rini E Provenzano Beh Questo è Questo È Diciamo Lo stato Di bisogno In cui Alle volte Si permane Quindi Una seria Lotta alla mafia È fatta Sì Di una Rivolta Di massa Da parte Delle popolazioni Ma anche Una Attenzione Maggiore Da parte Delle istituzioni Per cercare Di migliorare Quelle situazioni Di povertà In cui Può Albergare Può Infiltrarsi La mafia E io Racconto Sempre Quello che È un episodio Che mi è successo Stavo interrogando Un mafioso Un capo Un capo Di una Famiglia Importante Anche Aveva una Certa Intelligenza E quindi Nell'intervallo Gli chiedo Ma secondo Lei Quando finirà La mafia Questo Come fanno Spessi Ma Anziché Darmi una Data Un tempo Mi incomincia A raccontare Una sorta Di parabola Ci vedete Dottore Io Ero latitante Mi cercavate Tutti E Non mi trovavate Però Chi aveva bisogno Di me Sapeva Quali strade Fare Per venirmi A trovare E una mattina È venuto A trovarmi Un ragazzo Di 28 anni E mi ha detto Sa Ho fatto Una fuitina Voi sapete Cos'è la fuitina No Altro Devo spiegare In maniera Qua non c'è bisogno E allora È scappato Con una ragazza Anche per Evitare Le spese Del matrimonio Visto che È spesso La povertà A fare La fuitina E così E E quindi Era ritornato E dice Ho una Bambina Di 8 mesi Che piange Perché non ho I soldi Per comprarle Il latte E dice Allo mafioso Mi puoi aiutare? E allora Il mafioso Dice Fa Scrive Un pizzino Vai con questo Da quel costruttore Che sta costruendo Un palazzo Con i miei soldi Quindi non ti può dire Di no E lavori là Naturalmente Quel ragazzo Va a lavorare In nero Senza assicurazione Senza prevenzione Di infortuni Con un salario Di fame Dopo una settimana Comunque Ritorna dal mafioso E dice Grazie Io dico al mafioso Scusi ancora Non mi ha dato Il risposto Dice aspetti Aspetti Quel ragazzo Mi dice grazie E io gli dico Di darmi I suoi documenti La sua carta D'identità Bene Io con quella Carta d'identità Potevo Comprarmi Un'autovettura A suo nome Potrevo Affittarmi Un covo Dove nascondermi A suo nome Bene Quel ragazzo Era diventato Solamente Per avermi dato Il suo documento Il favoreggiatore Di un pericolosissimo Orlatitante E Poteva avere Una pena Fino a cinque anni Per quello che aveva fatto E ho detto Sì ma ancora Non mi ha risposto Dice no dottore Finché quel ragazzo Viene da noi E non da voi La mafia Non finirà mai Ecco E mi ha detto Una grande lezione Di come La mafia Sfrutta Spesso Il bisogno La necessità Di risolvere I propri problemi Quotidiani Ecco Leggetelo Questo libro Perché ci trovate Molte di queste cose Ci trovate anche Leggendo Tra le righe La volontà Ferrea Di fare a pezzi Alcuni altri Luoghi comuni Uno Su tutti Le stragi Del 1992 L'uccisione Di Falcone E di Borsellino Fu una vendetta Per l'esito Del maxiprocesso Comodo Rassicurante Direi Alquanto Incompleto E Pietro Grasso Si incarica Di elencare Tutto quello Che Falcone Prima E Borsellino Dopo Stavano facendo Nel momento In cui Furono uccisi I sociologi Direbbero Che si tratta Di stragi Forse Stabilizzanti Sicuramente Di delitti Preventivi Perché Se sposiamo L'idea Della vendetta Guardiamo solo A quello Che avevano fatto E non a quello Che stavano Per fare Che andava Fermato Era la legislazione Antimafia Che prendeva Corpo Davvero Dopo l'esito Favorevole Del maxiprocesso Era la DIA La DNA Che erano nati Sul finire Del 1991 Era Stata La stessa Rotazione Nell'assegnazione Del maxiprocesso Alla Suprema Corte Di Cassazione I processi Prima finivano Sempre Alla stessa Sezione Che era presieduta Da Corrado Carnevale Giudice Assolto Che aveva Si era meritato Sul campo Il L'epiteto Di Ammazza Sentenze Che in alcune Conversazioni Captate Dalle microspie Nel suo studio Riservava Dei giudizi Assai poco Lusinghieri Sui magistrati Di Palermo E su Falcone Borsellino In particolare Dire che era Che fosse prevenuto Rispetto al metodo Di lavoro Falcone E poco Tuttavia Anche di questo Si era occupato Falcone Fissando Fissando un principio Che credo sia Condiviso Da tutti Non può essere Sempre La stessa Persona Ad occuparsi Delle medesime cose Ma occorre Una collegialità Vera Nel libro Troverete Raccontata Francesca Morvillo Un'altra Persona Che quasi Nella narrazione Corrente Diventa un corollario Di quella Strage La moglie Di Giovanni Falcone Racconti Anche privati Che coinvolgono La moglie Di Grasso Che con Francesca Morvillo Stabilì Un rapporto Intenso Anche per via Del fatto Che i rispettivi Mariti Lavoravano Lavoravano A Roma Per lunghi periodi Della Settimana Ci troverete Ci troverete Anche Riferimenti Alle vicende Personali Di Grasso Al rischio Che ha corso E a come ha prese Di quel rischio Interrogando Altri magistrati Un collaboratore Di giustizia Che era stato Incaricato Di Insomma Di occuparsi Di lui Raccontò Nei minimi dettagli Come doveva fare Questo attentato Ma non si ricordava Il nome Grasso fu convocato Dai colleghi Perché aveva Una certa Dimestichezza Con quel territorio E forse Poteva essere Di qualche aiuto Fin quando Il collaboratore Di giustizia Non se lo trovò Di fronte Si diede Una manata In testa E gridò I due E così Seppe di questa storia Egli risparmio Di raccontarla Poi ci sono Altri episodi Che riguardano Anche la cerchia Familiare Di Pietro Grasso Perché insomma Fare il giudice Alatere Al maxiprocesso Fare il Procuratore Capo di Palermo Il procuratore Nazionale Antimafia Ha comportato Una Una sovraesposizione Che si è Che si è riverberata Anche sulla sua Sulla sua famiglia E sui suoi affetti E questo Lo trovate nel libro Però Avviandoci alla conclusione Vorrei che si parlasse Di un pegno Di un pegno D'amicizia Che è un po' Il simbolo Di questa storia Purtroppo Irrisolta E non per volontà Dei protagonisti È un oggetto Che lei Ha sempre con sé Prima Scusami Prima di Parlare Dell'oggetto Io volevo Fare un accenno A quel Problema Delle stragi Di Falcone Di Borsellino Allora La storia Di un paese Determina La dignità Di quel paese Se si vuol definire Democratico Oppure no E soprattutto La verità storica Che quel paese Riesce a ricostruire Beh Io Dall'esame Di tanti Processi Di tante Indagini Ho potuto Rilevare Che Le stragi Hanno lasciato Dei punti oscuri Perché è vero Che C'è stato Il movente Della vendetta Per quello Che Falcone Aveva fatto C'è stato Il movente Preventivo Per quello Che poteva fare Perché Le indagini Sugli appalti Sulla tangentopoli Siciliana Che viene bloccata Anche con la sua morte Ma soprattutto Quell'aspetto Assolutamente Destabilizzante Fatto Da un'azione Carattere terroristico Ne abbiamo parlato Se ne è accennato Anche prima Vedete C'è un fatto Che è accertato In tutti i suoi particolari Perché ce lo raccontano Più collaboratori Di giustizia Falcone Inizialmente Doveva essere Ucciso A Roma Con armi Comuni Cioè senza Esplosivo C'era Il preciso Mandato Di Riina Che lo aveva Deliberato Anche Con altri Con Provenzano Con Provenzano Con Piddo Madonia Con tutti i capi Della commissione Anche regionale Di fare L'omicidio Comune Con una rivendicazione Quasi Pseudo Terroristica Di una certa Falange armata Che doveva essere Utilizzata Quindi doveva rimanere Nell'imbo Dell'incertezza Sono stati i servizi Le cose Internazionali La massoneria Tutte queste cose I servizi segreti La mafia Cioè doveva rimanere Nell'incertezza Bene Il commando Che arriva a Roma Cerca Di svolgere Il proprio compito E incomincia A cercare Come Di studiare I posti dove andavamo Spesso io e Falcone La sera Quando magari Finivamo di lavorare Al ministero E però Hanno un'informazione Che è errata Perché Gli indicano Il ristorante Dove Dove dovevamo andare Come il matriciano In realtà Io e Falcone Il ristorante Il matriciano A Roma Per chi lo conosce È in quartiere Prati Mentre noi andavamo Il ristorante La Carbonara Che era dietro Il ministero A Campo dei Fiori Quindi Si sono confusi Sul piatto tipico Tradizionale Romano E però Perdevano tempo E non risolvevano Niente Arrivato a un certo punto Però Totorrina Li chiama Dice Visto che siete De buone a nulla Venite qua Tornate Abbiamo trovato Di meglio E Ci dicono Altri collaboratori Che Rina Aveva parlato Con persone Importanti Bene Dall'uccidere Falcone Con armi comuni A passare a una strage Che è unica al mondo Cioè di colpire Delle auto in movimento Lungo un'autostrada Diciamo una cosa Un atto da guerra Che abbiamo visto Ora li vediamo Gli atti da guerra Quando fanno saltare i ponti Durante la guerra Bene Fare Quell'atto Così stragista Che ha coinvolto Anche persone Che non c'entravano niente Che erano Nell'altra corsia Bene Chi Finché non risolviamo Questo problema Chi è quella persona Importante Che ha fatto decidere Rina Di fare una strage In quel modo Una strage Che tutti ricordano Che ha una eco Mondiale E che Fa Denotare Che è stata la mafia Quasi a volere Sfruttare Il carattere intimidatorio Che è l'inizio Di un filo rosso Che proseguirà Con l'accelerazione Di Borsellino Con l'agenda rossa E con tutto quello Che ne è seguito Con Quelle altre stragi Nel continente E che poi Si interrompe Come se Nulla fosse successo Perché c'è Un nuovo avvento Di nuove Formazioni politiche Bene Finché qualcuno Non mi spiega Questo cambio Di strategia Per Falcone Per Borsellino E per tutto quello Che ne è seguito Bene Questo paese Vuol dire Che non ha ancora Quella verità Che meritano Il paese Le vittime E tutti coloro E tutti i cittadini Bene Questo ci tenevo A dirlo Detto questo Andiamo a concludere Perché abbiamo approfittato Della vostra Pazienza E benevolenza Abbiamo fatto uno straordinario Pienone Abbiamo Mi prendo pure io Sto merito Ma è per lei Che sono qui Allora Andiamo a quel pegno Di cui parlava Bene Dovete sapere che Durante un volo Roma-Palermo Falcone aveva A disposizione Un volo di sicurezza Per motivi Evidenti E Un giorno Dieci giorni prima Circa della Strage Mette la mano In tasca E tira fuori Un accendino D'argento Questo qui Un accendino Marca Danil E mi dice Ho deciso Di smettere Di fumare Tieni questo accendino Ci tengo molto Mi fido di te Me lo devi conservare E se decido Di riprendere A fumare Me lo devi restituire E io Presi questo accendino Lo misi Nella borsa Naturalmente Poi ci fu La strage Quando appresi Della strage Io Tornai a casa Frugai Nella borsa Presi Questo accendino E decisi Di mettermelo In tasca O comunque Sempre a disposizione Perché Perché questo accendino Mi dà La forza La forza Ricordando Tutto quello Che ha subito Giovanni Falcone Paolo Borsellino Perché vedete Il maxiprocesso Doveva essere Una In un paese normale Quel risultato Doveva portare Sull'ala Del successo E degli eroi Da valorizzare Nel paese Invece Incominciò Il sistema Mafioso Politico La magistratura A colpirli E a delegittimarli Calugnandoli Parlando Che La bomba All'Addaura Se l'era messa lui Per fare carriera Il corvo Che diceva Che aveva mandato Un Un killer Di stato Per uccidere I mafiosi Le carte Nei cassetti Per non colpire La politica Ma quante Quante calugnie E quando stava Per essere nominato Per quello che era Il suo Progetto Della procura Nazionale Antimafia Ostacolato Da tutti Pensate Da 63 magistrati Che hanno fatto Una lettera Contro di lui Dicendo Che quel suo Progetto Era uno strumento Che faceva passare La magistratura Sotto la dipendenza Del potere Esecutivo Bene Tutte queste cose Che ha subito Giovanni Falcone E lui Quando Non aveva Purtroppo Quella luce Beh Aveva un'aria triste E mi diceva Piero Vedrai Prima o poi La ragione Prevarrà Bene Ci sono voluti 500 kg Di esplosivo Per far prevalere Questa ragione Ecco perché Questo oggetto Io Lo tengo anche Come se Dovesse funzionare Da un momento All'altro Se dovessi Restituirglielo Perché Vedete Questa fiamma Bene Questa fiamma È Una fiamma Che vorrei Che fosse Presa Per accendere Delle fiaccole Da parte Di tutti noi Di tutti i ragazzi Per continuare Quella che era L'opera Di Giovanni Falcone Perché Col suo esempio Essendo Si potrà Certamente Costruire Con i nostri ragazzi Delle nuove generazioni Che miglioreranno Senz'altro Il nostro paese Grazie Pietro Grasso Con Alessio Pasquini Il mio amico Giovanni Grazie a voi Di essere stati con noi Grazie ancora Grazie a Pietro Grasso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti